Togliamoci la maschera La vittoria non è facile, non si vince mai a mani basse, nello sport e nella vita e forse questo è il significato delle braccia al centro La vittoria non è mai supremacia sugli altri, la vittoria nello sport e nella vita è sempre superamento di se stessi Questa vittoria, Nasa, Lornadio, Lorenzo e anche Luca, è per voi ed è nel ricordo che noi abbiamo di favore Grazie 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 L'idea di trasformare in valvola rotante questo gioiello? No, non è un'idea. Allora si faceva così, Grasini l'avevano fatta così, l'aveva fatto un certo Spadoni, insieme a un certo strato che è qui. I primi che sono stati a produrre questo oggetto, questa trasformazione, sono stati in Garelli? Chi è stato? Ti ricordi? No, 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 no. Allora questa è una cosa che si facevano artigianalmente. Però era già nata questa idea, molto prima. L'idea c'era, però? La discorotante? Sì, la MZ, esatto. Però in Italia, io parlo, credo che sia stata la Garelli, Guassoni, Guassoni. Solo che per dire noi, io ho cominciato, che avevo 16 anni, a fare il primo disco così, perché il Minarelli era un motore che tutti avevamo a disposizione. Io avevo un Minarelli, l'italgento e il Minarelli. Io avevo questa idea, solo che non me la faceva nessuno, non soffia dove sbattere la testa. Mettevamo il carburatore di 22, la limavamo, smontavamo, i pistoni fiammi. Ma faceva così? Si, faceva così. Poi, noi dopo facciamo il primo disco, io avevo 16 anni. Ma hai fatto una cosa geniale, te lo dico, è geniale. Però, adesso io l'ho rifatto esattamente come l'avevano fatto loro, ma... Sì, sì, tu hai fatto... Poi, non solo allo schiarico, hai lavorato sullo schiarico, è capito. La marmitta era mia, del 590... No, l'avevi già tu. Ho visto, hai fatto coni sul corno. Sì, sì, sì. Ma questo però è una marmitta... Ma no, faccio vedere il... Aspettami. Allora... Vieni con Sergio. Cioè, mancarino, ma voi due che siete i primi scostruttori da sotto, vi vorrei qui. Vieni qua. Alfio! Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ma è il tecno. Questo è un gioiano di poco, capisco. Cioè, di là di qui ci sono la craglie... Ecco, ciao Benito. Ciao, ciao. Vuoi pegare il remolo? Vieni qua. Guarda qua. Li mettiamo dietro? Loro qui non li andiamo qua. Sì, va bene. Perfetto. Allora, Sergio ti puoi mettere di qua con remolo? Vi togliete... Senza le maschere! Senza le maschere! Mi potete togliere da dietro, vi dispiace un attimo così abbiamo i primi... costruttori della moto abbracciala dai c'è anche cosa no? Giancarlo dov'è Guido? Guido Morelli Guido, chi ci manca ancora, chi ci manca ancora? Remo, Remo è lì, Remo è lì, Remo è lì, Remo ci siamo tutti, ci siamo tutti, tira sull'occhiale e vai lì Cionpi, te cosa fai lì indietro? Vieni qui, vieni qui, Cionpi si nasconde E manca Rino Pasotti, Guido, Alfio, Giancarlo, Rino non lo so